Non è stato il classico inizio lavori composa della prima pietra, ma di sicuro un passo importante c'è stato. È infatti con i lavori sulla vasca di laminazione che inizia il percorso che porterà alla realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze. La vasca avrà una dimensione tale che la renderà preliminare all'opera, perché è cruciale per la sicurezza idraulica dell'area. Servirà infatti a prevenire le inondazioni dell'attuale aeroporto, ma anche della futura pista. Le acque trattate inoltre saranno depurate e rimesse in rete. In verità la vasca non si trova all'interno della somma delle opere del masterplan, in più non è ancora stato espropriato nulla. È tuttavia l'inizio delle opere di adeguamento dell'attuale aeroporto, in modo che il futuro assetto complessivo possa risultare integrato, omogeneo e coerente, in linea con gli obiettivi di tutela e sicurezza idraulica. I lavori, che avranno una durata di sette mesi, prevedono la realizzazione di vasche di contenimento e in ottica di tutela dell'ambiente circostante, di impianti di depurazione che consentiranno di rimettere acqua depurata nei canali di scarico.